Stasera c'è un imperdibile Empoli-Pisa, scusami, la mia fede empolese viene fuori per l'Empoli, è un derby mostruoso, sentitissimo, quindi guarderò i primi 15 minuti del Lazio-Inter e poi guarderò l'Empoli. Ma ancora non lo so, farà degli esami domani, l'adduttore è sempre difficile da valutare perché a volte dà dei falsi segnali, sembrano infortune, non sono niente, a volte succede il contrario, quindi penso che bisogna aspettare domani. No, una pubalgia su... lui non ha mai avuto dolori ontino agli adduttori, ha sempre avuto dolori su qualche movimento, l'ultima volta era un falso allarme perché poi dopo 48 ore stava già bene, quindi vediamo che stavolta se c'è qualcosa o se è un altro falso allarme, però lui non è che ha i sintomi della pubalgia perché fra un episodio e l'altro lui sta normalmente, non è che c'è un dolore ontino, è tipico a livello della sindrome della pubalgia.